Assessore Pescara Bruzzo Wine, 5, 6, 7, 8 dicembre, un'importante iniziativa per parlare di vini ma non solo. Sì, è una iniziativa importantissima e supportata dall'amministrazione comunale. Io sono onorata di ospitare all'interno della struttura dell'Aurum questo evento, un evento che oramai è presente nella nostra città da 15 anni. E voglio sottolineare anche un aspetto molto importante, un aspetto sociale, che è quello della devoluzione di una somma di denaro che verrà raccolta durante questi quattro giorni a favore della ricostruzione della pineta d'Annunziana. Io esorto e invito tutti i cittadini di Pescara a essere presenti, a partecipare a questo evento, a queste manifestazioni che è stata organizzata dall'Accademia Internazionale Enogastronomice e Sommelier e quindi dobbiamo esserci tutti perché lo scopo è uno scopo benefico che fa l'ustro alla nostra città. In questi quattro giorni saranno esposti vini di 100 cantine per un totale di circa 270 tipologie diverse in degustazione gratuita. Il pubblico per accedere alla sala, oltre le norme e oltre i Covid, deve versare 2 euro che noi giriamo interamente al Comune e riceverà in omaggio la sacca e il bicchiere di degustazione. Questo anche per avviare il lavaggio dei bicchieri col Covid, quindi ognuno col proprio bicchiere. La Regione ha il dovere di essere vicino a manifestazioni come questa, una manifestazione ormai storica del nostro territorio che ha molteplici valenze. La prima è quella di esaltare sempre più il vino, che ovviamente parliamo di uno dei prodotti più tipici e caratterizzanti del nostro territorio e che è uno degli ambasciatori, non solo in Italia, ma nel mondo. E poi c'è la finalità della Pineda D'Annunziana, dove la Regione è prontamente e giustamente intervenuta per contribuire per un importo finanziario importante per riaprire alcuni lotti e dobbiamo anche con queste manifestazioni stimolare la coscienza di tanti pescaresi, di tanti mecenati che danno il loro apporto per cercare di restituire il comparto della riserva d'Annunziana alla città di Pescara, ma direi all'intero Abruzzo. Grazie a tutti.